Ciao, sono Max Lietta e sono ormai 12 anni che faccio il Giro d'Italia. Lavorato per diversi network e da tre anni lavoro per Radio 2 al Giro e in altri eventi anche. Ormai siamo diventati come una famiglia qua e si sta bene, quest'anno hanno fatto anche la regia nuova, cosa voglio di più? Auguro a chiunque di riuscire a fare quello che sto facendo io, è una bella esperienza, serve ed è molto professionale. Ciao a tutti! Grazie a tutti!